Musica Benvenuti a Live on the Pole, finalmente ve lo posso dire, sono arrivate le magliette griffate! Live on the Pole, vi mostro subito i modelli, questo è il modello rosa, aperto sui lati, copro il sedere ed ecco il secondo modello, logo bianco e tutta aperta e lavorata sul retro. Per informazioni mandatemi una mail a liveondepore.com oppure mandatemi un messaggio privato su Facebook. Vi aspetto ai miei workshop domenica 17 aprile a Parma, Apple Dance Parma. Ciao a tutti!